Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò della soluzione ai ritardi nel rilascio dei passaporti. Il direttore di Poste Italiane ha annunciato che dal prossimo luglio non vi sarà alcuna distinzione tra piccoli e grandi centri, ma i passaporti saranno richiedibili negli uffici postali di tutta Italia. Per avere un passaporto nuovo, occorrerà recarsi presso lo sportello dell'ufficio postale e saranno sufficienti un documento di identità, il codice fiscale, due fotografie, la ricevuta di pagamento del bollettino da 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. L'ufficio postale raccoglie tutto registrando le impronte digitali del richiedente insieme al passaporto scaduto o la denuncia di smarrimento, per poi inviare tutto presso il competente ufficio della Polizia di Stato. Aggiornato sulle uscite dei prossimi video.